Quando nel 1905 pubblicò la sua teoria della relatività ristretta, Albert Einstein, come del resto molti altri scienziati, credeva che l'universo consistesse di una sola galassia, la nostra Via Lattea. Ma quanto era inadeguata questa valutazione delle dimensioni dell'universo? Attualmente, si pensa che nell'universo siano presenti più di 100 miliardi di galassie, alcune delle quali composte da miliardi di stelle. Man mano che telescopi sempre più potenti vengono installati qui sulla Terra, o messi in orbita intorno ad essa, il numero delle galassie conosciute, continua ad aumentare. Nel 1905, anche la conoscenza scientifica della Terra era limitata, così come lo era quella dei Cieli. Certo, chi era in vita un secolo fa, sapeva molto di più dei suoi predecessori. In ogni caso, oggi la nostra comprensione della bellezza e della complessità della vita, nonché dei sistemi che ne permettono la continuazione qui sulla Terra, è molto più profonda di allora. E senza dubbio, col passare degli anni impareremo ancora molto sul nostro pianeta, e sull'universo. Ma una domanda più che mai opportuna è, come ha avuto origine tutto questo? La risposta a questa domanda, si può trovare solo perché il Creatore la rivela per mezzo delle sacre scritture. Tutto intorno a noi, troviamo indicazioni del fatto che Dio ha usato il suo Spirito Santo in maniera molto ordinata. Facciamo un esempio. Immaginate di avere una scatola contenente delle palline di vari colori. Scuotete la scatola e mischiate bene le palline, dopodiché, le rovesciate a terra tutte in una volta. Vi aspettereste di vedere le palline cadere sul pavimento raggruppate per colore, le palline blu tutte da una parte, quelle gialle da un'altra e così via? Certo che no. Le azioni non controllate, tendono sempre a generare un grado di ordine minore, non maggiore. Questo fatto, è accettato come una legge fondamentale della natura. Eppure, cosa vediamo quando rivolgiamo lo sguardo al cielo, o scrutiamo lo spazio con un telescopio? Notiamo un immenso sistema altamente ordinato, composto da galassie, stelle e pianeti, che si muovono con grande precisione. È impossibile che questo sia il prodotto del caso, o il risultato di un incidente cosmico casuale e non controllato. Allora dobbiamo chiederci, quale forza è stata impiegata in origine, per produrre il nostro ordinato universo? Con il solo ausilio dell'osservazione, e della sperimentazione scientifica, gli esseri umani non sono in grado di identificare tale forza. La Bibbia tuttavia, la individua nello Spirito Santo di Dio, la più potente forza dell'universo. E pensare che scrutando il cielo notturno ad occhio nudo, possiamo vedere solo una piccolissima parte, di questo esercito di stelle. Fra gli organismi viventi, troviamo dunque innumerevoli esempi di complessità, simmetria e bellezza, che rivelano un progetto di altissimo livello. Consideriamo il DNA, l'acido desossi ribonucleico, una sostanza chimica che fa parte del meccanismo di trasmissione delle caratteristiche degli organismi da una generazione all'altra. Tutte le creature viventi, siano esse microbi, erba, elefanti, balenottere azzurre, o esseri umani, si riproducono per mezzo del DNA. Sebbene le creature che popolano la Terra differiscano notevolmente, il codice che controlla molte delle loro caratteristiche ereditarie, è molto stabile, e nel corso dei millenni, ha permesso di mantenere distinte le fondamentali specie viventi. In armonia con il proposito di Geova, i vari organismi presenti sulla Terra, continuano dunque a svolgere ciascuno il proprio ruolo, all'interno della complessa rete della vita. L'alto livello di efficacia e ordine di questo meccanismo, dimostra ulteriormente che la creazione è opera del dito di Dio, lo Spirito Santo. Oggi, si assiste a una crescente ondata di propaganda a favore dell'ateismo e dell'evoluzionismo, che nasce da ragionamenti distorti e privi di fondamento. Perché cercare di spiegare l'origine dell'universo e dell'umanità escludendo l'esistenza di un creatore intelligente, sarebbe una scelta miope. La fede nella Bibbia e in Dio stesso, non può che uscire rafforzata da un onesto esame dei fatti a sostegno della creazione. Molti, vorrebbero cercare di spiegare l'origine dell'universo e dell'umanità, escludendo l'influenza di qualsiasi forza esterna al mondo fisico. Ma se partissimo da un presupposto del genere, non staremmo soppesando tutti i fatti in maniera imparziale. Per giunta, ignoreremmo la palese esistenza di opere creative senza numero, che manifestano ordine, e rivelano un preciso scopo.